a me mi piace e con questa celebre famosa espressione ripresa tante volte nel corso degli anni anche da famosi spot iniziamo questo video perché dopo aver parlato anche del 16 max in modo più approfondito dopo avervi fatto un video relativo agli iphone 16 16 plus con le novità e i trucchi da conoscere se l'avete appena acquistato quindi se non l'avete visto andatelo a riprendere lo lascio anche qui descrizione è il momento di dire la mia su iphone 16 plus perché secondo me è un po troppo criticato eppure credo che sia forse l'iphone più cresciuto rispetto all'anno scorso ora vi spiego tutto prima di proseguire naturalmente ragazzi voglio che aprite un attimo la mente per cercare di capire quello che voglio dirvi è giusto che apple faccia dei modelli che prova a vendere quindi anche giusto che apple è stata un'azienda che deve vendere fa di tutto per arrivare alle tasche e le esigenze delle persone questa è una cosa dobbiamo tenere sempre bene a mente perché tutto quello che vi dico dipende anche appunto dai prezzi dei dispositivi da cosa dovete fare con dispositivi eccetera eccetera premessa doverosa è normale che iphone 16 pro max sia il migliore iphone che esista a tutto quello che la tecnologia apple può darci al massimo al meglio e sarebbe semplicissimo dire a tutti comprate il 16 pro max ma tutti hanno bisogno davvero di un 16 pro max assolutamente no iniziamo col dire che rispetto al 15 plus questo ha veramente molto più senso è diventato quasi un pro perché proprio come il 16 liscio sono state migliorate tante funzionalità ora partiamo dalla più criticata il famoso tasto della fotocamera ok magari la posizione è scomoda magari è una funzione che non verrà utilizzata tantissimo magari è un flop di apple magari tante cose ma c'è proprio come c'è sui pro max e sui pro e soprattutto c'è rispetto al modello precedente ma visto che parliamo di fotocamera parliamo delle sue camere perché sono state migliorate non tanto per quanto riguarda l'aspetto dei megapixel perché bene o male siamo lì con la definizione catturano leggermente un po più di luce però adesso con questo riusciamo anche a scattare foto macro ora voi mi direte sì ma chi seguono le foto macro forse è una piccola nicchia beh posso dirvi che la maggior parte delle persone che mi hanno contattato che hanno anche un'attività sui social e volevano scattare foto ravvicinate con un 14 con un 14 plus un 15 15 plus si lamentavano che da vicino appunto iphone non mettessi a fuoco questa cosa adesso non succede più le foto scattate sono buone in macro e permettono alle persone di avere un qualcosa in più che prima non c'era ora voglio arrivare al punto più critico perché so già dove state andando ovvero lo schermo i famosi 60 hertz e non i 120 hertz è possibile che un telefono che costi oltre 1000 euro abbia ancora 60 hertz beh se c'è è possibile non è che lo stiamo osannando per questo però 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 avete visto online dei video che qui non vi posso far vedere fare una ricerca perché altrimenti poi rischio che per copyright qualcuno mi blocchi il canale però fate una ricerca online vedrete che sono stati fatti dei test tra un iphone da 120 hertz e durante lo scrolling durante diciamo le operazioni più comuni quotidiane apple castra il frame rate a 80 hertz quindi noi abbiamo 120 però vediamo i 120 hertz solo in particolare situazioni quindi diciamo nel quotidiano nella pratica in tutti i giorni non è che ci sia questo abisso è normale io oramai utilizzo il pro max l'occhio ce l'ho sono anche un po più critico vedo la differenza di fluidità però siamo onesti all'utente normale per quelli quindi parlo di una persona che ha bisogno di un telefono affidabile che faccia quello che deve fare nel tempo e quindi abbia una buona batteria una buona fotocamera eccetera eccetera questa cosa non mi interessa più di tanto cioè se domani mattina uscisse l'iphone 16 plus identico ma con l'unica cosa in più lo schermo da 120 hertz e costerebbe non so 150 200 euro in più secondo voi le persone acquisterebbero un plus solo perché ha lo schermo migliore vabbè lo so volete dire sì ma ci sono anche i pro max e quindi è normale era un discorso un po generale per dire che è normale anche che apple lo sappiamo quest'anno non ha fatto un grande passino avanti per quanto riguarda i suoi dispositivi ha fatto un miglioramento ma non un grande passino avanti si sa già che con i 17 è molto probabile arriveranno i famosi 120 hertz anche qui o addirittura 90 hertz perché se ne parla ancora comunque ci dovrebbe essere un miglioramento ma il discorso è sempre questo ragazzi io non posso dal creator in generale comunque come discorso consigliare di comprare sempre il mercedes o il ferrari perché è un'auto bomba e quindi a chi ha bisogno di andare al lavoro solo e fare 20 km al giorno consigliare quella no ci sono tante auto c'è la panda c'è la altre così come ci sono tanti altri modelli di iphone quindi ci sono tutta una linea 16 che potete scoprire c'è un se ci sono i ricondizionati ci sono iphone vecchi è sempre in base a quello che una persona cerca e ha bisogno io ho fatto acquistare questo prodotto a tantissimi amici perché perché già sapevo che le funzioni pro non le avrebbero mai sfruttate anzi sarebbero stare anche quasi troppo e potevano portare confusione hanno risparmiato qualcosina perché volevano uno schermo grande volevano batteria e quindi rispetto a un pro max hanno risparmiato hanno trovato un telefono affidabile che va una bomba il processore è diverso dal pro max certo il pro max è migliore certo ma di quanto di mezzo secondo di quando abbiamo un'applicazione di quando facciamo un giochino c'è ragazzi dai siamo onesti poi tutti i discorsi vengono a fare questi fanboy che questi iphone sono costruiti con gli scarti degli iphone questa è un'altra cosa che chissà da dove è uscita però questo è il bello del web per me lascio nel tempo che trovano se vogliamo tutti quanti ragionare che il migliore è soltanto il pro max allora è inutile leggere recensioni inutile fare recensioni inutile impegnarsi per altro comprare tutti quanti un pro max siamo tutti felici e sereni ma non è così lo sappiamo le esigenze non sono uguali a tutti e un dispositivo del genere che è maturato tantissimo è diventato affidabile anche per chi fa un utilizzo social quindi anche per chi ha una piccola attività e deve condividere qualche cosa qua ha tutto quello che serve non voglio entrare nei meriti del design perché sinceramente il design è veramente molto personale e soggettivo a me non dispiace questo che è stato creato era stato forse troppo criticato adesso che diciamo sono stati pubblicizzati e adesso invece che sono stati ufficializzati e quindi sono noti qualcuno si è un po ricreduto perché dai primi rumors sembravano molto più brutti ma anche sul design cioè io non vedo che la concorrenza è così diversa e innovativa cioè a memoria correggetemi se sbaglio dall s22 all s23 s24 parla dei samsung sono identici non è cambiato nulla e perché venire a criticare sempre apple sul design quando poi altri non vedo che facciano chissà che cosa lo voglio ribadire lo voglio precisare non sono un fanboy perché quando c'è stato da accusare apple e anche quest'anno l'ho detto il pro ad esempio max che io utilizzo non è che ha un passo in avanti deciso rispetto a 15 pro max però in questo caso io devo dirvi che rispetto ai 15 i 16 16 plus hanno fatto un passo in avanti importante scaldano anche molto di meno sono affidabili la fotocamera è migliorata quindi a una persona un utente diciamo normale dare un telefono affidabile che una buona batteria che una buona fotocamera cosa ha bisogno di più qualche tempo fa feci una piccola critica ad apple dicendo che secondo me forse è arrivato il momento di non sfornare ogni anno un iphone oppure è arrivato il momento di non sfornare così tanti modelli ogni anno magari si potrebbe pensare che un anno si potenzia o si migliora la linea pro un anno quella liscia o comunque addirittura toglierli proprio questi puntiamo solo sui pro e pro max apple solo pro e pro max però credetemi è una cosa che vorrebbe una persona come me che appassionata tecnologia amante dell'azienda e del brand però se vi mettete nei panni dell'azienda stessa con questa strategia commerciale di avere più modelli a disposizione si vende molto di più poiché apple è furba nel creare piccole esclusive a volte anche software che magari sono soltanto qui non sui modelli precedenti io su questo vi do ragione perché lo fanno di proposito così come vi ho mostrato nel confronto fra iphone 16 pro max e iphone 15 max che ad esempio gli stili fotografici che dovrebbe essere un esclusivo della linea 16 sì lo sono in parte perché se mandate una vostra foto a un altro dispositivo precedente riuscite ad avere gli stili anche su un dispositivo precedente quindi c'è qualcosina magari da rivedere io ho anche tirato le orecchie quando c'erano da tirare ad apple però ecco non mi va giù il fatto che questo iphone 16 plus venga criticato aspramente perché secondo me non merita queste critiche se poi vogliamo parlare di maneggevolezza questo qui è anche un po più piccolo dei pro max soprattutto è anche più leggero perché è 199 grammi in confronto a un 16 pro max che 226 grammi quindi non è che sono proprio piccole differenze io non sono un amante dei benchmark perché a volte lasciano il tempo che trovano quindi per chi non sapesse benchmark sono quei test che si fanno per vedere quanto un processore potente eccetera ma fatevi una ricerca online i 16 e i 16 plus sono tra i top telefoni che esistono dietro solo ai pro naturalmente per quanto riguarda i dispositivi apple ma quindi stiamo parlando sempre di un prodotto di fascia molto alta e non sono neanche un gamer ma se giocate qui con titoli anche esclusivi che ha messo a disposizione apple cioè non avete nessun problema di fluidità di performance certo qualcosina manca perché nella fotocamera abbiamo la grand'angolo l'ultra grand'angolo e le foto macro ma non abbiamo un grande zoom perché abbiamo solo zoom a 2x manca proprio la lente tele ma non possiamo avere tutto altrimenti saremo un'altra categoria di iphone c'è la porta usbc affidabile che serve oramai a tutti perché è uno standard che ci serviva per permetterci di utilizzare unità esterne pen drive ssd eccetera eccetera quindi veramente io con calma vi invito a commentare perché voglio sapere i motivi per cui non comprare un 16 plus ma non per voi che magari avete un pro un pro max o che scegliete i pro ma per una persona che non ha bisogno davvero di un pro un pro max e vuole un dispositivo apple perché un 16 plus non potrebbe essere la scelta ideale e non parliamo di ricondizionare per favore perché stiamo facendo un discorso della nuova linea e di condizionare per chi ha un budget molto limitato e cerca modelli precedenti sì penso sia stato un bello sfogo volevo farlo ci tenevo a farlo perché in queste due settimane veramente ho sentito di tutto e io posso dirvi che apertamente mi difendo questa categoria di prodotto e continuerò a consigliarlo perché mi piace se poi mi chiedete a me qual è il mio iphone personale lo sapete è il pro max ma perché io lo sfrutto ma se fossi un utente medio lo ripeto e l'ho fatto punterei sul 16 plus a per chiudo panitensi perché non un 16 normale semplicemente perché mi piace lo schermo più grande e voglio più batteria quindi tutte le vostre considerazioni tutte le vostre critiche perché ci saranno sicuramente e ci devono essere quelle costruttive lasciatele qui sotto e discutiamole insieme noi ci vediamo molto presto ciao